Siamo stati abituati a stare al sicuro a vedere il mondo in linea retta ma non è ciò che siamo C'è chi sia contenta di vivere per il sogno di qualcun altro Noi no Non abbiamo mai dato retta a chi cerca di fermarci perché non ci capisce Perché non capisce ciò che ci spinge a vivere le nostre giornate con un solo obiettivo rendere il nostro sogno realtà Noi vediamo il mondo in modo diverso Troviamo conforto nell'ignoto di una tela bianca su cui possiamo esprimere i nostri sentimenti più profondi in completa libertà Creando video mettendo la prova ai nostri limiti o attraverso il cibo arriviamo tutti alla stessa destinazione Un luogo in cui nulla è importante al di fuori di ciò che amiamo di più La passione nel creare qualcosa che prima non esisteva La dedizione ha il nostro unico scopo Grazie a tutti Grazie a tutti